Mentre succede, fanno finta di non sapere esattamente cosa succede. Siccome siamo in minigonna, una coi capelli verdi, l'altra arancioni, va da sé che scopiamo come conigli. Di conseguenza, quello in atto non è esattamente uno stupro. Come la maggior parte degli stupri, immagino. Immagino che nessuno di quei tre, da allora, si consideri uno stupratore. Perché quello che hanno fatto loro è un'altra cosa. In tre con un fucile, contro due ragazze che hanno pestato fino a farle sanguinare. Nessuno stupro. La prova? Se davvero non avessimo voluto farci stuprare, avremmo preferito morire, o saremmo riusciti ad ammazzarli. Dal punto di vista degli aggressori, se quelle a cui capita ne escono vive, vuol dire che, in fondo, non gli dispiaceva. Durante lo stupro avevo nella tasca del mio teddy rosso e bianco un coltello a serramanico dall'impugnatura nera. Meccanismo perfetto, lama sottile ma lunga, affilata, lucida, scintillante. Un coltello che brandivo con una certa facilità, in quei tempi globalmente confusi. Mi ci ero affezionata. A modo mio avevo imparato a servirmene. Quella notte è rimasto in fondo alla tasca e l'unico pensiero che ho avuto al riguardo è stato «Purché non lo trovino?» «Purché non decidano di giocarci?» L'idea di usarlo non mi ha nemmeno sfiorata. Nell'istante in cui ho capito quello che ci stava succedendo, ho avuto la certezza che i più forti erano loro. È un fatto mentale. Da allora sono convinta che se avessero cercato di rubarci i giubbotti, la mia reazione sarebbe stata diversa. Non ero temeraria, ma spesso incosciente. In quel preciso istante, però, mi sono sentita donna. Maledettamente donna. Come non mi era mai capitato prima. Come non mi è mai più capitato in seguito. Non avevo il diritto di ferire un uomo per salvarmi la pelle. «Credo che se avessi avuto contro un solo ragazzo avrei reagito allo stesso modo. Il progetto dello stupro rifaceva di me una donna, qualcuno di essenzialmente vulnerabile. Le ragazzine vengono addestrate perché non facciano mai del male agli uomini. Le donne richiamate all'ordine, ogni volta che infrangono la regola. A nessuno piace scoprire fino a che punto è vigliacco. Nessuno ha voglia di sentirselo dentro. Non ce l'ho con me stessa per non aver usato ammazzare uno di loro. Ce l'ho con una società che mi ha educata senza mai insegnarmi a fare del male a un uomo se mi apre le gambe a forza, quando questa stessa società mi ha inculcato l'idea che è un crimine da cui non mi riprenderò mai. E soprattutto mi manda in bestia l'idea che nonostante i tre uomini e la carabina, nonostante fossi intrappolate in una foresta da cui era impossibile scappare correndo, ancora oggi mi sento in colpa per non aver avuto il coraggio di difenderci con un coltellino. Per finire, uno dei tre trova il coltello e lo fa vedere agli altri, sinceramente sorpreso che io non l'abbia tirato fuori. Allora vuol dire che le piaceva. In tutta sincerità, gli uomini non hanno idea di quanto il dispositivo di castrazione delle ragazze sia ineludibile, di quanto tutto sia scrupolosamente organizzato per garantire che quando attaccano le donne trionfino senza troppi rischi. Sono beatamente convinti che la loro superiorità sia dovuta alla loro forza straordinaria. non si fanno problemi a battersi carabina contro coltello. la trovano una lotta alla pari quegli imbecilli. Il segreto della loro serenità è tutto qui. ci si ostina a fare finta che lo stupro sia un evento straordinario e periferico, al di fuori della sessualità, evitabile. Come se riguardasse poche persone, aggressori e vittime, come se costituisse una situazione eccezionale, che non dice niente del resto. mentre invece al contrario sta al centro, nel cuore e il fondamento delle nostre sessualità, rito sacrificale primario nelle arti e onnipresente fin dall'antichità, rappresentato nei testi, dalle statue, nei dipinti, una costante attraverso i secoli. Nei giardini di Parigi, così come nei musei, rappresentazioni di uomini che abusano di donne. Nelle metamorfosi di Ovidio, si direbbe che gli dèi passino il tempo a cercare di mettere le mani su donne che non sono d'accordo di ottenere quello che vogliono con la forza. Facile. Per gli dèi che sono. E quando le donne rimangono incinte, è ancora su di loro che le mogli degli dèi si vendicano. La condizione femminile, il suo alfabeto, sempre colpevoli di quello che ci fanno. Creature ritenute responsabili del desiderio che suscitano. Quando il ragazzo si volta e dice «hai finito di ridere» mollandomi il primo ceffone, non è la penetrazione a terrorizzarmi, ma l'idea che ci ammazzeranno per impedirci di parlare in seguito, di denunciarli o testimoniare. Al posto loro, tutto sommato, io avrei fatto così. Della paura della morte ho un ricordo preciso. Questa sensazione è bianca, un'eternità. Non essere più niente, già più niente. Si avvicina più al trauma di guerra che al trauma dello stupro, così come lo leggo nei libri. È la possibilità della morte, la prossimità della morte, la sottomissione dell'odio disumanizzato degli altri che rende quella notte indelebile. Lo stupro per me ha prima di tutto questa peculiarità, ti ossessiona. Ci torno di continuo. Da vent'anni a questa parte, ogni volta che credo di essermene sbarazzata, ci torno. Per dirne cose nuove, contraddittorie, romanzi, racconti, canzoni, film. Immagino sempre che un giorno potrò sbarazzarmene. Liquidare l'episodio, suotarlo, esaurirlo. Impossibile. E fondatore di quello che sono in quanto scrittrice, in quanto donna che non è più del tutto tale. È insieme ciò che mi sfigura e ciò che mi costituisce.